Rolando Dubini ha aggiunto una foto sulla Russia di Putin, con l'ambrene detto, su Facebook. Rolando Dubini 3 agosto 2016 alle ore 8.48 Assad, Erdogan è un fascista 7 giugno 2016 Il presidente della Siria, Bashar Assad, ha definito fascista, il regime del presidente della Turchia Reshep Erdogan. Secondo il capo di Stato siriano, Aleppo per Erdogan rappresenta l'ultima speranza di realizzazione del progetto islamista. Egli ha inoltre evidenziato che sono stati i paesi che spallengiano il terrorismo ad aver voluto la distruzione delle fondamenta della Siria. È stato progettato di attaccare la Costituzione e rimpiazzarla con un regime basato sulla divisione confessionale. Tale regime trasforma i cittadini di un paese in nemici che cercano alleati, ha dichiarato Assad. Il conflitto armato in corso in Siria si protrae dal marzo 2011. Secondo le Nazioni Unite, i morti sono più di 220.000. Le forze governative si confrontano con le milizie appartenenti a vari gruppi armati. I gruppi terroristici più attivi sono il Daesh e il Nusra. www.http.it.sputniknews.com.mondo.20160607-2839455-sat-erdogan-fascista.html